Buonasera, fratelli e sorelle, che il Signore vi benedica. Vedete che vi visito? Voi mi dite, ma da quanto tempo non viene sorella qui? Sono qui nuovamente insieme a voi e ringrazio il Signore per questo. Ringrazio il Signore per permettermi di essere qui nuovamente e chiedo al Signore che mi permetta di lavorare per Lui in tanti posti dove la gente ne ha bisogno. E oggi, o questa sera, Dio è qui con noi, come sempre. Come sempre è stato al nostro fianco e intorno a voi. E oggi mediteremo sulla parola del Signore, parola che Lui ha permesso di rimanere scritta. E noi onoreremo il Signore imparando e prendendo la lettura, il suo contenuto, per noi, per la nostra vita. E Dio, per questo motivo, sarà felice con noi. E Lui, il Signore, cos'è che fa? Fa miracoli nel frattempo. In alcuni fa miracoli. E se è possibile, in tutti. Perché il Signore vuole dare benedizione a tutti. Grazie a Dio. Grazie al Signore. Quanto difficile è per il mondo, per le persone, credere in Dio. È molto difficile. È difficile. Il mondo dice, mostrami Dio. Come facciamo per vedere Dio, per parlare con Lui? A volte noi non abbiamo le parole adeguate per spiegare alle persone che Dio esiste. A volte non possiamo dire alle persone, guarda, io sento Dio nella mia vita perché nessuno mi crederà. Dicono, no, a te sembra, ma non è così. Lo dicono. Dicono così. Mentre chi vive le esperienze, dicono che sentono Dio. Noi parliamo di Dio, predichiamo l'esistenza di Dio. La gente ci ascolta e magari ci dice, no, tutto ciò che stai dicendo è una bugia. Però poi quando vivono delle esperienze, dicono, avevi ragione. Sì, avevi ragione. È bello, Dio esiste. Ho sentito Dio, ho vissuto l'esperienza. Ho sentito qualcosa di bello. Ho sentito la pace. Questa è la cosa bella che noi sentiamo dire ad alcune persone. Soprattutto quando Dio compie miracoli e fa miracoli appunto. Siamo ancora più felici, più meravigliati e anche la gente si sente felice. Oggi salutiamo tutti i nostri fratelli, tutte le nostre sorelle, tutte le persone che ci vedranno attraverso questo video di questa sera qui a Madrid. Li salutiamo con tanto affetto e vi diciamo che anche per voi sono le benedizioni perché il Signore ha benedizioni per tutti. Ci sono tante testimonianze raccontate dalle persone che vedono il video, vedono uno studio biblico e hanno ricevuto benedizioni da parte di Dio. Ripeto, non è perché il video faccia miracoli. Non è perché Maria Luisa faccia miracoli. Bensì è la parola di Dio. Quando vi dico guardate lo studio biblico, imparate la dottrina, leggete la Bibbia, il Signore poi vi benedirà. Allora voi trovate del tempo e dite vado in chiesa oppure leggerò la Bibbia, imparerò la dottrina oppure vedrò uno studio biblico e il Signore vede le vostre intenzioni. Ed è questo che Dio benedice. Per questo Dio vi fa il miracolo. Perché non è che il video faccia dei miracoli. Bensì siete voi stessi che avete procurato il miracolo disponendo il vostro cuore per assistere alla congregazione a pregare, a lodare, a vedere l'insegnamento e a glorificare Dio e a leggere la Bibbia. Vi rendete conto, fratelli e sorelle? Noi portiamo Dio nella nostra vita. Abbiamo Dio nel nostro essere. E siamo noi coloro che allontaniamo Dio oppure lo avviciniamo? Siamo noi stessi. È l'intenzione del nostro cuore che Dio vede. Per questo motivo, quando voi vedrete lo studio biblico, perché tante persone mi hanno raccontato dicendo, io ero malato, stavo vedendo tutti gli studi biblici, magari oggi nello studio biblico di oggi e nella preghiera di oggi, allora oggi chiederemo al Signore fede affinché Lui possa compiere miracoli. Poi le persone dicono che hanno insistito così tanto, una e tante volte chiedendo al Signore e alla fine il Signore operò e fece miracoli nella vita di quelle persone che videro gli studi biblici e furono intenzionate a disporre il cuore per Dio. E questo è quello che vede Dio, il cuore. Questo è quello che vede il Signore, l'intenzione del cuore. E oggi continueremo con lo studio biblico leggendo il libro di Giobbe. Io volevo sospendere il libro di Giobbe perché è molto lungo, ma alcuni fratelli mi hanno detto di no, di continuare a studiare Giobbe, perché da lì impariamo tante cose. Giobbe parlava di Dio e i suoi nemici, anzi, i suoi amici, che divennero poi nemici, filosofavano e questionavano il povero Giobbe. E nelle loro filosofie e nei loro ragionamenti giudicavano Giobbe e lo condannavano. Il Signore ci ha insegnato però che tra di noi non possiamo giudicarci né condannarci. Perché uno ha un difetto, l'altro ha un altro difetto. Se uno ha una debolezza, l'altra persona ha un'altra debolezza. Allora, perché giudicarci? Perché condannarci a vicenda? Dovremmo invece astenerci dal giudizio. Ecco, nemmeno se fossimo però dei giudici saremmo del giusto giudizio, soprattutto tra fratelli e sorelle. Invece noi dobbiamo avere pazienza gli uni verso gli altri, pregare gli uni gli altri. E il Signore Gesù Cristo dava questo bel insegnamento, cioè che non bisognava giudicare. Perché colui che giudicava il prossimo aveva anche egli un difetto, una debolezza, un peccato. E per prima cosa doveva spogliarsi di quella debolezza, peccato, difetto prima di giudicare gli altri. Per questo il Signore disse, chi non ha peccato scagli la prima pietra. Ma tutti se ne andarono perché tutti dissero, no, io come posso fingere? Come lanciare una pietra a questa donna? Perché poi magari questo Gesù di Nazareth mi giudica e porta alla luce i miei peccati occulti qui di fronte a tutti. Meglio che me ne vada. E così noi abbiamo imparato. E questo è successo anche a Giobbe e ai suoi amici. I suoi amici diventarono suoi giudici, schernitori. Lo presero in giro, lo condannarono, lo giudicarono. E nel capitolo 22 vediamo che c'è un altro suo amico, un grande filosofo di quell'epoca. E diceva di sapere tanto, che aveva tanta conoscenza di Dio, della vita, degli esseri umani, della natura. E questo amico diceva di sapere di più di Giobbe, voleva avere ragione. E per questo noi impariamo tanto da questa lettura. E leggeremo oggi, nel capitolo 22 di Giobbe, vediamo come l'amico di Giobbe dice nel verso 1 del capitolo 22. Dice Questa è una domanda che Elifaz fa a Giobbe. Gli dice che l'uomo saggio, secondo Elifaz, reca beneficio a se stesso e basta. E Giobbe si proclamava uomo saggio. E quindi Elifaz dice a Giobbe, ma allora qual è il profitto che Dio prende da te? Nessuno. Elifaz sta dicendo a Giobbe, tu credi di essere un uomo saggio? Ma sei l'unico che approfitta della tua sapienza, perché Dio non sta ricevendo nulla da te. E nel verso numero 3 dice Quale piacere ne riceve l'onipotente, se tu sei giusto? O quale guadagno ne ha, se la tua condotta è integra? Quindi dice Tu non vali nulla, tu non sei nessuno davanti a Dio, diceva Elifaz a Giobbe. Seguite con la lettura del verso 4 E vediamo cosa dice questo amico a Giobbe. La paura che castiga, viene a Gesù Dio, la paura che ti castiga. Ti sta dicendo E' forse per la paura che ha di te, che ti castiga, che ti castiga Dio e viene in giudizio con te come se Dio si fosse eguagliato all'uomo. Così diceva Elifaz a Giobbe Ma tu non vali nulla E il Signore di certo non perderà il suo tempo con te Così diceva Elifaz Ma noi oggi cos'è che potremmo dire? Sarà che Dio perde il suo tempo con l'essere umano? Io credo di sì Perché Dio si preoccupa dell'essere umano E Dio Essendo così grande e così potente Che riempie tutto Perché il Signore copre tutto l'universo Tutto quello che noi riusciamo a capire è Dio E noi come esseri umani Cosa siamo alla presenza di Dio? Tuttavia Dio si occupa e preoccupa degli esseri umani Piccoli Ma l'amico diceva a Giobbe Che Dio non avrebbe fatto così Perché Giobbe non era nulla per Dio Nel verso 5 Dio Non è piuttosto per la tua grande malvagità Quindi l'amico dice a Giobbe che è malvagio Non è piuttosto per la tua grande malvagità E per le tue innumerevoli colpe Che tristezza che questo amico si rivolgeva a Giobbe in questo modo Dicendo Tu sei un uomo malvagio La tua malvagità non ha fine Ecco perché sei prostrato Ecco perché stai soffrendo Che tristezza se noi avessimo un amico del genere Che quando ci vede nel bisogno Quando ci vede nella malattia O quando ci vede soffrendo Patendo Di tutte le cose elementari E questo amico mi dice che io sono la persona più cattiva del mondo Perché ho commesso tutte le malvagità e tutti i peccati E che non ho perdono Cosa potremmo sentire se un amico ci dice queste parole? Sicuramente delusione Ci sentiamo tristi, delusi E diremo a questo amico Non ti voglio più vedere perché tu non sei un amico Povero Giobbe Sta dicendo L'amico che era molto malvagio E perché? Leggete il verso 6 Qui lo sta calunniando Eliphaz sta calunniando Giobbe Perché non è vero Giobbe infatti fu un uomo retto Dio stesso disse che Giobbe era un uomo retto e perfetto Integro davanti a lui Mentre qui l'amico Eliphaz Dice che non fu così E che aveva addirittura tolto il poco che avevano i suoi fratelli Lasciandoli senza nulla Sette Non davi da bere acqua allo stanco E rifiutavi il pane all'affamato Continuando Dice Rimandavi la vedova a mani vuote E le braccia degli orfani erano spezzate Lo sta giudicando E lo sta anche calunniando Continuate con il verso 10 Quindi questo amico Oltre a calunniare Giobbe Oltre a diventare un giudice Cos'è che stava facendo? Lo stava condannando Eliphaz condannava Giobbe Pertanto Giobbe Sarebbe stato oppresso dai lacci E che sarebbe turbato Da spaventi improvvisi Da spaventi notturni Infatti nei passaggi anteriori Noi abbiamo letto degli spaventi notturni Quindi Eliphaz lo stava giudicando Stava giudicando Giobbe E lo giudica anche nell'11 E dice Oppure l'oscurità Non ti permette di vedere E una piena di acque Ti sommerge Non è forse Dio Nell'alto dei cieli? Guarda le stelle cielse Quanto sono alte Seguite voi Questo amico Si era permesso anche di dire a Giobbe Quello che Giobbe pensava Quello che Giobbe si supponeva pensasse Quell'amico Si stava comportando Come una persona Che sa tutto Un intellettuale Che vuole sempre aver ragione Che pensa di sapere tutto Ecco Eliphaz si stava comportando In quel modo davanti a Giobbe Dicendogli Che Giobbe pensava Quello e pensava Quell'altro Ma non siamo lontani Dalla realtà Perché anche Oggigiorno Quando il diavolo Pone delle circostanze Pone Per esempio Qualsiasi situazione Oggetto O persona O essere del mondo Animato O inanimato E lo pone Per venire contro di noi A dirci cose brutte Per deluderci Per attrestarci Affinché la nostra fede decada Affinché noi ci avviliamo Non crediamo più nel Signore Non abbiamo più fiducia in Dio Non cerchiamo Dio Il diavolo si avvale Di tante circostanze Per venire contro di noi Affinché la nostra fede Cada Quindi il nemico Oggi fa questo Lo ha fatto Nell'antichità Con Giobbe Attraverso i suoi amici E il nemico Lo fa anche oggi Con noi Usando migliaia Di circostanze Nella vita Di situazioni Che si presentano Nella vita Affinché noi Non crediamo più Nel Signore Non confidiamo in Lui Cosicché noi Dubitiamo Persino Della nostra Propria integrità Continuiamo Con la lettura Nel verso Numero Quattordici Dice Fitte nubi Lo coprono Così Non può vedere E passeggia Sulla volta Dei cieli Si stava riferendo A Dio Quindici Vuoi tu seguire La via antica Già percorsa Da uomini malvagi Sta dicendo a Giobbe Vuoi continuare A seguire Quella via Antica Quando gli uomini Commissero Tanta malvagità Davanti a Dio E per quel motivo Dio inviò Il diluvio Per distruggere L'umanità A motivo appunto Della malvagità Quindi diceva Elifat A Giobbe Vuoi seguire L'esempio Degli antichi Quegli uomini Malvagi Che avevano Commesso Peccato Leggete il 16 17 Essi dicevano A Dio Allontanati Da noi Che cosa Può fare L'Onnipotente Per loro Eppure Dio Aveva colmato Le loro case Di beni Ma io Mi tengo Lontano Dal consiglio Degli empi I giusti Vedono Ciò E si rallegrano E l'innocente Si fa beffe Di loro Noi qui Vediamo Come Il diavolo Stesso Era Colui Che Dimorava In Elifat Ed Elifat Parlava A Giobbe Perché Elifat Non sapeva Cosa aveva fatto L'uomo Antico Mentre Il diavolo Sì Lo sapeva Perché il diavolo Esiste da sempre Dall'antichità E lui Conosce Tutta la storia Conosce La vita Di tutti Perché Lui è stato L'autore Della malvagità E per questo motivo Stava dicendo a Giobbe Riguardo Agli antichi Parlava degli antichi Degli uomini malvagi Cosa avevano fatto Ma era appunto Il diavolo In Elifat Nel verso 20 Dice Certo I nostri avversari Sono stati distrutti E il fuoco Ne divora Quel che resta 21 Riconciliati Riconciliati Dicendo a Giobbe Di pentirsi Di pentirsi Di chiedere perdono A Dio Che ritorni Sulla retta via Che amico Ipocrita Vero? Quello era un amico Ipocrita Che non vive Quello che predica Non vive Quello che insegna Anzi Cos'è che ha fatto? Andò contro Giobbe Ma siccome noi Stiamo prendendo Questa lettura Per la nostra vita Allora noi sappiamo Che anche il nemico Viene contro di noi Ma Noi Dobbiamo fare Tanta attenzione Viviamo una vita Retta davanti a Dio Perché se non viviamo Una vita retta Davanti a Dio Allora sì Questo amico Elifat Avrebbe ragione A venire contro di noi A giudicarci E dirci tante cose E magari Ha ragione E invece noi Dobbiamo fare attenzione Essere attenti Quindi E andare avanti Per questa via La via Della rettitudine La via Della perfezione Cosicché Quando il nemico Viene Travestito Da un amico Come Elifat Dicendoci tante cose Noi in quel momento Non crederemo A quell'amico Noi non ci avviliremo E non caderemo Nella trappola Anzi Saremo forti E continueremo Andando avanti Credendo Avendo fiducia Nel Signore Perché Il nostro nemico Ci può porre Trappole Come malattie Miseria Tante cose Ci può porre Nella nostra vita Fino al punto Di farci dire Il Signore Mi ha abbandonato Sono solo Sto soffrendo Questo può fare Il nemico Ma nemmeno Con tutto questo Dobbiamo smettere Di credere Nel Signore Ricordiamoci Che Giobbe Stava soffrendo Malattia Oltre Alla miseria Economica Nel quale Si era trovato Soffriva Dei dolori Nel proprio corpo E qui Eliphaz Continua a dire Nel verso Numero 22 De Ricevi istruzioni Dalla sua bocca Cioè Da Dio E riponi Le sue parole Nel tuo cuore Quindi dice Di mettere Nel cuore La legge Di Dio Se ritorni All'Onnipotente Sarai ristabilito Se allontani Dalle tue tende L'iniquità Ecco Eliphaz Parlava di Dio A Giobbe Ma Eliphaz Non doveva Parlare In quel modo A Giobbe Visto che Giobbe Era già Un uomo retto E perfetto Davanti a Dio Continuate con il 24 Sta facendo Delle promesse A Giobbe Se tu ti penti Se ti penti Allora Anche Dio Si pentirà Ma Eliphaz Si pone Al posto Di Dio E dice Se ti penti Avrai più oro Allora L'Onnipotente Sarà il tuo oro Il tuo tesoro D'argento Come si è permesso Eliphaz Di parlare In questo modo Ma era il diavolo Che stava offrendo Ricchezze A Giobbe Questo mi ricorda Quando il Signore Gesù Cristo Fu tentato Dal diavolo Dicendogli Se tu sei Il figlio di Dio Allora Buttati Buttati Da questo dirupo Infatti il diavolo Lo portò Nella parte più alta Del tempio E gli disse A Gesù Cristo Lanciati Tanto gli angeli Ti sosterranno Quindi se tu Ti lanci E se tu Mi onori Allora io Ti darò Tante donnearo Ti darò Tutte le ricchezze Del mondo Questo fece Il diavolo Col Signore Gesù Cristo Ma il Signore Gesù Cos'è che fece Riprese Il diavolo Con la dottrina Così proprio Come faceva Giobbe Anche Giobbe Rimproverò Il suo amico E riprese Il diavolo Attraverso La dottrina Attraverso La conoscenza Con convinzione E sicurezza In Dio Dice nel verso Numero 26 Continua Eliphaz A dare delle promesse Poiché allora Troverai il tuo diletto Nell'Onipotente E alzerai la faccia Verso Dio Continuate Che parole così belle In apparenza Ma se noi Non conoscessimo La dottrina Certo ci lasceremmo Ingannare Da Eliphaz Ma siccome Conosciamo Il diavolo Allora non cadiamo In questa trappola Perché il maligno Parla di cose belle Per ingannare Giobbe 28 Deciderai una cosa E ti riuscirà E sul tuo cammino Splenderà la luce Continuate Stava dicendo a Giobbe Che non era umile Che era orgoglioso Altezzoso Ribelle E che allora Doveva essere umile Affinché ricevesse L'aiuto di Dio 30 E libererà Anche chi Non è innocente Qui dice E libererà Però io metto Il soggetto E dico E Dio libererà Così possono capire Anche i bambini Che stanno Ascoltando l'insegnamento Ma che non leggono La Bibbia Quindi E Dio libererà Anche chi non è Innocente Sì Egli sarà liberato Per la purità Delle tue Mani Qui si conclude Il capitolo 22 Ed Eliphaz Conclude Il suo discorso In questo modo Parlando a Giobbe In quel modo Io credo che Giobbe Ne fura attristato Però poi vediamo Che nel capitolo 23 Giobbe Risponde A questo suo amico Eliphaz Quindi non perdetevi Questo studio biblico Riguardo alla risposta Che Giobbe Dà ad Eliphaz E da lì Impareremo Tanta dottrina E impareremo Anche a vivere Bene Davanti a Dio Ad essere Retti Ed integri Davanti al Signore Questo è molto bello Quando noi Leggiamo Analizziamo E prendiamo Per noi Questo insegnamento Per la nostra vita Lo prendiamo Come un esempio E se Giobbe Non si è avvilito Anche noi Non ci avviliamo Bene Adesso sì Iniziamo con le vostre domande Che avete portato Questa sera Buonasera Sorella Benvenuta Al mio paese Grazie Per essere qui Ci sono Delle citazioni Bibliche Ma vorrei leggere Il Vangelo Secondo Marco In San Giovanni Marco 16 15 San Marco 16 Verso 15 Il Signore Ci dice Andate Per tutto il mondo E predicate il Vangelo A ogni creatura Questo dice agli Apostoli Ma poi In Apocalisse Capitolo 14 Verso 6 Il Signore Gli ordina Agli Apostoli A predicare il Vangelo Perciò Questo Era solo per quell'epoca Sorella Perché il Signore Attraverso gli insegnamenti Ci dice di non andare A predicare Sugli autobus O per le strade Ma Che sarebbe stato Il Signore A portare le persone In chiesa Ma io vedo Che ci sono Altre persone Di altre denominazioni Che vanno Per le strade A predicare Ma poi Succede che queste persone Ci si avvicinano E noi non sappiamo Cosa rispondere Quindi Io Soltanto dico No Non ho bisogno Che mi predichi Io assisto Già ad una chiesa Ma Vediamo che comunque Il Signore Nella Bibbia Ci dice Andate a predicare Sì Però non ci ha detto Come Il Signore Non ci ha detto Di andare A bussare Di casa in casa Il Signore Attraverso il tempo Ci ha insegnato Il modo In cui noi Dobbiamo predicare E insegnare La parola Possiamo chiedere Alle persone Che sono qui Questa sera Circa 1500 persone Ci saranno Questa sera O forse 2000 Come siete venuti Voi qui Se chiediamo A ciascuno Di voi È perché Sono stati Evangelizzati Da qualcuno Qualcuno Vi ha parlato Voi potete dirmi Qualcuno Mi ha invitato Chi? Il mio vicino La mia vicina Mio familiare Mio marito La mia sorella Mio cugino Mi hanno parlato E io sono venuto qui Ecco In quel modo Si sta evangelizzando Quindi Il modo Di evangelizzare Non è quello Di essere insistenti Con le persone O di bussare Alle porte Perché la gente Si infastidisce Oltretutto Se non abbiamo La potenza di Dio Le persone Diventano ancora Più infastidite E non ci ascoltano Invece Se noi Offriamo loro La potenza di Dio E poi Parliamo loro E diciamo Che Dio esiste E che Dio fa miracoli Chi non crederà Quelle persone Si incaricano Poi a loro volta Di parlare Agli altri Ecco Chi evangelizza Non sono solo Le persone Che vengono in chiesa Ma anche gli invitati Vengono per la prima volta In chiesa Dio fa loro Un miracolo E poi quelle persone Parlano a loro volta Alla loro famiglia I loro vicini Che a loro volta Per curiosità Vanno in chiesa E così Via E così Che si predica E si estende La parola del Signore In questo modo Non è un modo fanatico Perché andare Per esempio Per strada Predicando Salento su un bus Dicendo No Si penta Perché altrimenti Andrà all'inferno E le persone Possono risponderci Ma pentirsi di chi La gente Si infastidisce E ci dice Ma perché mi stai parlando Che sto andando al lavoro Sto andando a studiare A scuola Non ho tempo Di ascoltarti Non è il momento Tu sei inopportuno E se si va a bussare le porte La stessa cosa Oggigiorno Le città Le culture I paesi Sono tutti diversi Ci sono paesi Nei quali Nessuno può andare In un'altra casa A bussare Perché potrebbe essere Un ladro E nessuno apre la porta Quindi questo Non è il modo corretto Di evangelizzare Non è il modo Di estendere Il Vangelo del Signore Ci sono altri modi Altre maniere Più corrette Migliori E Dio Ci sta insegnando Nel tempo Come dobbiamo Predicare E insegnare Guardate che adesso Stiamo evangelizzando Attraverso internet Stiamo evangelizzando Attraverso Questa tecnologia Che Dio stesso Ha dato All'uomo E noi stiamo evangelizzando Per esempio Un giorno Di domenica Di mercoledì Se c'è un culto Viene trasmesso In più di 60 paesi Che vedono Contemporaneamente La predicazione O l'insegnamento O lo studio biblico Ed è meglio Che di andare Di casa In casa Se voi Percorrete 5-6 vie O 5-6 quartieri Per predicare La parola La parola del Signore Con internet Invece La gente Riceve Miracoli Attraverso internet Perché vedono Gli studi biblici E la gente Guarisce La gente Riceve Benedizioni Da parte di Dio Senza fare Kilometri Kilometri A piedi Il Signore Ha detto Andate Predicate Il Vangelo In tutto il mondo Certo Agli Apostoli Disse così Ma gli Apostoli Non andarono In tutto il mondo A predicare Essi Predicarono Solamente In Asia E tutto il territorio Di Europa Come qui Spagna Parte di Asia E di Africa E niente più Perché poi Gli Apostoli Furono sacrificati E arrivarono poi I discepoli Che non conoscevano Il continente americano Per esempio O l'America Latina Quindi Cos'è che vediamo noi Quando il Signore Dà l'ordine Di predicare In tutto il mondo Non sta parlando In un modo Connotativo O in un modo Letterale Dicendo Guardate L'Evangelo Deve essere predicato In tutto il mondo Ma Non Nello specifico A persone Che andranno In tutto il mondo A predicare No Saranno i discepoli La gente Che mano a mano Si formerà Nel tempo E predicheranno Ad altri Questi altri Predicheranno Ad altre persone E così via Di generazione In generazione Passeranno gli anni I secoli E la gente Predicherà Il Vangelo Fino a quando Si compierà La parola del Signore Che disse In tutto il mondo Sarà predicato Il Vangelo Ora Più di duemila anni A questa parte Si sta predicando Il Vangelo L'esistenza Del Signore Gesù Cristo Ma il mondo Ancora non è stato Evangelizzato Del tutto Anche se sono passati Duemila anni Quindi noi adesso Abbiamo questo lavoro E noi ringraziamo Il Signore Che ci ha dato Internet E attraverso appunto Questa rete sociale Stiamo evangelizzando Tante altre persone Perché è difficile Adesso muoversi Andare In tanti paesi Perché non ci sono Le possibilità È impossibile Invece Invece con internet Si sta lavorando Tantissimo E col passare Del tempo Il Signore Ci dà Delle istruzioni E ci insegna Il modo corretto Di evangelizzare E Dio Quando vuole salvare Una persona La pone Sulla sua via Quella corretta Affinché vada In chiesa È un modo Semplice Però lei mi citava Un altro verso Quale sorella? Apocalisse 14 Verso 6 Quello Lo legga pure Apocalisse 14 Verso 6 Dice Si Poi Vidi un altro angelo Che volava in mezzo Al cielo E che aveva L'Evangelo eterno Da annunziare Agli abitanti Della terra E ad ogni nazione Tribu Lingua e popolo E diceva a gran voce Temete Dio Dategli la gloria Perché l'ora Del suo giudizio È venuta E adorate colui Chi ha fatto Il cielo La terra Il mare E le fonti Delle acque Quindi il Signore Vuole che tutti Gli esseri umani Ascoltino Il Vangelo Ma questo Non significa Che tutti Si convertiranno Non significa Che tutti Crederanno Però Tutti Sentiranno E ascolteranno Che esiste Il Vangelo Del Signore Finché è il giorno Del giudizio Nessuno Si possa Giustificare E dire Signore Io non ho mai Sentito parlare Del Vangelo Nessuno mi ha mai Predicato Nessuno può dire Questo Perché il Signore Dice che lui Darà a tutti L'opportunità Di ascoltare Tuttavia Non tutti Si convertiranno Non tutti Arriveranno Alla vita Eterna Però noi Siamo qui E stiamo Sperando E desiderando Con tutto Il nostro cuore Di arrivare Alla vita Eterna Ma anche Chiedere Al Signore Che ci Gli strumenti Per evangelizzare Per servire Il Signore Che tante anime Si convertano Quindi Ognuno di voi E ognuno di noi Abbiamo qualcuno Al nostro fianco Al quale Parlare di Dio Al quale Invitare Che cerchi Dio Che vada in chiesa E che Riceva L'esperienza Della profezia Questo è quello Che noi facciamo Bene Poi Nella epistola Agli ebrei 8 11 Ebrei 8 Verso 11 E nessuno Istruirà più Il suo prossimo E nessuno Il proprio fratello Dicendo Conosci il Signore Poiché tutti Mi conosceranno Dal più piccolo Al più grande Di loro Sì Questa era Una promessa Del Vangelo Del Signore Gesù Cristo Paragonato All'antichità E cioè La legge di Mosè Nella legge Di Mosè Bisognava Scrivere In un libro La legge Bisognava Scriverla Sui muri Sulle colonne Di un edificio Sulle braccia Scrivere I versi Dei comandamenti Della legge Di Mosè E Dio Diceva Leggete Affinché Non vi dimentichiate Leggete Non fate questo Non fate quell'altro Dovete fare le cose In questo modo Dovete leggere Affinché voi Mi possiate Ubbidire Quella era La legge Antica Ma una volta Arrivato il Vangelo La cosa fu diversa Nel Vangelo Il Signore Dice Che nessuno Avrebbe insegnato Al prossimo La parola Di Dio O dicendogli Conosci il Signore Perché Il Signore Stesso Sarebbe stato Nel cuore Di tutti noi E tutti noi A partire Dal più piccolo Fino ad arrivare Al più grande Avrebbero conosciuto Dio Ed è così Se voi chiedete Ai bambini Loro sono i primi Che sanno Della dottrina Loro sono i primi Che hanno fede Che credono Perché loro Conoscono Il Signore Perché Dio Sta con loro Quindi Come possiamo dire Ad un bambino Tu devi conoscere Dio No, non possiamo Insegnare questo Ad un bambino Già il bambino Lo sente Già il bambino Lo ha capito Lo ha compreso Perché Dio È arrivato Nella sua vita E si compie Questa promessa In ebrei 8 Verso 11 Che stava parlando Di Gesù Cristo Del suo Vangelo Dove Dio sarebbe Stato con noi E noi conosciamo Il Signore Io non posso dire A nessuno Che il Signore Esiste Se io Per primo Dubito Ecco Io devo dire Il Signore È dentro di me È nella mia vita E lo sento Questo è il vero Vangelo del Signore Gesù Cristo Paragonato Alla legge di Mosè Andiamo avanti Sì fratello Buon pomeriggio Sorella Maria Luisa Dio la benedica Benvenuta Alla chiesa Di Vallecas La mia domanda È in Geremia Capitolo 32 Verso 14 Sì Così dice L'Eterno Degli eserciti Dio di Srene Prendi questi atti L'atto di compra Tanto Quello sigillato Quanto quello aperto E mettili in vaso di terra Perché si conservino Per molti giorni E fa riferimento Anche nel verso 11 Quindi presi L'atto di compra Quello sigillato Secondo la legge E gli statuti E quello aperto Questi due atti di compra A cui si riferiscono Possono essere La legge di Mosè E l'Evangelo Questo è qualcosa Di fisico Materiale Qualcosa letterale Che è accaduto Nella storia Quando i re Qui sta parlando Dei re Che facevano Delle alleanze Con altri re Quindi Il popolo di Israele Era in guerra E doveva Mettersi d'accordo Con altri re Come quello di Assiria E di Siria Quindi inviavano Dei messaggeri Con delle lettere Reali Fisiche Per convincere Per esempio Il re di Assiria E di Siria Di non andare Contro gli israeliti Quindi questo Fu qualcosa Che accadde Fisicamente Letteralmente Storico Quindi non c'è nulla Da interpretare In questi versi A livello simbolico Perché accadde Nella realtà Quindi bisogna Solamente leggere Questa parte Storica Che successe Tra quei re Perché Dio Aveva già Determinato Che avrebbe Castigato Gli israeliti Inviando Gli eserciti Di altre nazioni Per andare Contro Israele E distruggerla Quindi i re Cercavano Di fare Delle alleanze Dei patti Per evitare Quella guerra Ma in realtà Ci fu Andiamo avanti Greetings sister It fills me With great joy To meet you For the first time In person God has promised me This In his prophecy I am from Austria And I bring greetings From the church In Vienna Where I got to know Iglesia de Dios And ever since My life has changed For the better I've been full of God's joy And happiness And he's given me His peace And a lot of Beautiful promises In his prophecy Sorella Le voglio dire Che il mio cuore È pieno di gioia In questo momento Perché sono davanti a lei Ed è una promessa Del Signore compiuta Inoltre Il Signore Mi ha donato Pace e gioia Nel mio cuore Le porto I saluti Della chiesa di Vienna Austria E ho Due domande Da farle Sì I have Two questions The first one Concerns The Lord's Supper In First Corinthians Eleven Twenty three To twenty seven La domanda Riguarda Alla cena Del Signore E leggerò E leggerò Prima di Corinzi Capitolo Undici Dal verso 23 Al 26 Sì Can I read For whenever La domanda La domanda è Perché non si celebra spesso la cena del Signore nella chiesa e solo si fa una volta o due volte all'anno? Infatti Infatti è per ricordare il Signore Bene Noi stiamo ricordando il Signore tutti i giorni Noi ci ricordiamo di Dio tutti i giorni Sappiamo che il Signore Gesù Cristo ha sofferto sulla croce del Calvario sacrificandosi per l'umanità Dio si è fatto essere umano e fu sacrificato Soffrì come un essere umano e fu sacrificato per salvarci e noi questo lo ricordiamo tutti i giorni Qui il Signore Gesù Cristo quando disse Voi dovete bere e mangiare riguardo alla cena solo se siete degni Quindi come deve essere una persona davanti a Dio Per celebrare la cena deve essere perfetta davanti al Signore Di modo che chiunque mangi del pane e beva la coppa indignamente sarà colpevole del corpo del sangue del Signore Quindi che ognuno si esamini E così mangi del pane e beva del calice Poiché chi ne mangia e beve indignamente mangia e beve un giudizio contro se stesso Perciò arriva il castigo da parte di Dio per queste persone che stanno mangiando la cena del Signore ipocritamente Perché vivono ancora nel peccato, commettono il peccato Vivono per esempio nelle invidie, nei risentimenti, nelle contese, negli inganni, nelle bugie, nelle ipocrisie Se vivono in quel modo, perché mangiare la cena del Signore? Per essere ancora più puniti? Cosa preferite voi? Non mangiare la cena? Meglio santificarsi prima, anzi santifichiamoci tutti quanti prima di prendere questa decisione Per il resto noi ricordiamo il Signore tutti i giorni Ma il giorno in cui voi vi sentirete retti davanti al Signore Se nel vostro cuore non ci sarà più odio, rancore, egoismo, orgoglio, vanità Allora voi a quel punto potete celebrare la cena Arriverà il giorno in cui ci saranno tante persone Moltitudini di persone in chiesa E questo sarà impossibile Celebrare la cena nella congregazione Sarà impossibile Perciò arriverà il giorno in cui Le stesse famiglie che cercano Dio Che saranno ripiene dello Spirito Santo Ripiene dei doni spirituali Quelle famiglie dovranno celebrare la cena nella propria casa Riunendosi e celebrare e ricordare Quei momenti in cui il Signore Gesù Cristo soffrì in quell'epoca Arriverà il giorno in cui si farà in questo modo Perché congregarsi in chiesa e celebrare la cena con duemila persone È fuori portata Perciò Prima di tutto per celebrare la cena Dobbiamo esserne degni Vi ricordate quando portarono al Signore Gesù Cristo La donna trovata nell'adulterio Che bisognava lapidarla Signore Gesù Cristo disse Chi è libero dal peccato Scagli la prima pietra E dice che tutti se ne andarono Perché ciascuno disse No Io per esempio sono orgoglioso L'altro ribelle L'altro vendicativo L'altro io sento odio Invidia Rancore Meglio andarmene E così accade anche a noi Infatti dice nel 29 Poiché chi ne mangia e beve indegnamente Mangia e beve un giudizio Contro se stesso Quindi cosa facciamo noi? Meglio che il giorno della cena Non andiamo in chiesa C'è una cena in chiesa il mercoledì Quel giorno non vado in chiesa No Non vado Perché se vado E poi non mi sento Degna di mangiare la cena Magari gli altri dicono Non cena perché è nel peccato Quindi io È meglio che non assista Non vado perché non sono ipocrita Mentre l'ipocrita va Finge Mangia la cena Così com'è Perché non gli interessa Perché non gli importano le cose di Dio Perché vale di più Quello che dicono gli altri Vale di più l'apparenza Allora Vi invito Affinché voi Troviate tempo per leggere Prima Epistola ai Corinzi Capitolo 11 Dal 23 Fino al verso 31 O anche fino al verso 33 Leggetelo Una e molte volte Per vedere qual è la conclusione Che voi traete E così Si innalzeranno Tante persone Sante Erette per Dio Che nella loro casa Potranno celebrare La cena del Signore E ricordare Quei giorni Nei quali Il Signore Fu crocifisso Sulla croce del Calvario E così Bene Bene L'altra domanda La seconda domanda Si trova in Apocalisse Capitolo 19 Verso 9 Quindi mi disse Scrivi Veati coloro Che sono inviati Alla cena delle nozze Dell'agnello Mi disse ancora Queste sono le veraci Paroli di Dio Allora Io Cadi ai suoi piedi Per adorarlo Ma Egli mi disse Guardati dal farlo Io sono un conservo tuo E dei tuoi fratelli Che hanno la testimonianza Di Gesù Adora Dio Perché la testimonianza Di Gesù È lo spirito Della profezia Perciò La mia domanda è A cosa si riferisce Con lo spirito Della profezia A che vedere Con il dono Della profezia Il Signore Gesù Cristo Fu nominato Nell'Antico Testamento Da Mosè Da Mosè I salmi Giobbe I profeti Tutti parlarono Di Gesù Cristo E questo Si chiamava Profezia La profezia Di Isaia La profezia Di Geremia Di Ezechiele La profezia Di Mosè Mosè Disse Al popolo Dopo di me Dio Innalzerà Un altro profeta Dopo di me Innalzerà Un altro profeta E stava parlando Di Gesù Cristo Allora Per questo In Apocalisse Quello che appena letto Fratello Dice che il Signore Gesù Cristo Era lo spirito Della profezia Lui stesso Era quella profezia Di cui si parlò Nell'Antico Testamento Cioè Il Signore Gesù Cristo La profezia Dell'Antico Testamento Si riferisce Sempre al Signore Gesù Cristo Per questo Quando dice Che Gesù È lo spirito Della profezia Della profezia Dell'Antichità E Gesù Cristo Venne Per mezzo Della parola Profetica Degli uomini Dell'Antichità E quando Cristo Venne Parlò E insegnò E Riconfermò Che Lui Era il compimento Delle profezie Passate Infatti I profeti Anticiparono L'arrivo Del Signore Gesù Cristo Poi Gesù Cristo Disse Io formerò Una chiesa Formerò Mio popolo E darò Doni spirituali E continueranno A profetizzare Ci sarà una profezia Ma questa profezia Adesso Non sarà più Per parlare Del profezia Di un re O di un salvatore Che viene Perché è già venuto Adesso la profezia Nel Vangelo Farà sì Che sia Un modo Per perfezionarsi Affinché Ognuno Riceva Edificazione Cambi la propria vita Da una vita di peccato A una vita Santa Retta È per questo La profezia Perciò Questo è quello Che insegnò Gesù Cristo Attraverso i doni spirituali E disse Tutti profetizzeranno Ma Affinché Ognuno Sia Edificato E affinché Ognuno Viva una vita Retta Ecco perché La profezia Che oggi Noi sperimentiamo È Per la nostra vita Per cambiare Per santificarci Per allontanarci Dal peccato Affinché Crediamo in Dio Confidiamo in Lui Ci appoggiamo al Signore Lo amiamo È per questo La profezia Oggi Per la nostra Edificazione Per il nostro Perfezionamento Quindi Gesù Cristo Fu profezia Compiuta Nel passato E oggi Lui Ci profetizza Affinché Noi possiamo Essere Perfetti E guadagnare La vita Eterna Un'altra domanda Sì sorella Buonasera Sorella La mia domanda Riguarda i bambini Sappiamo Che i bambini Devono essere Protetti Dai loro Genitori Soprattutto i bambini Della chiesa Ma vediamo Che per motivi Lavorativi I genitori Si recano Dagli amici O dai parenti Perché si prendano cura Dei loro bambini Ma In questo modo Questi bambini Sono sposti A molti pericoli Perciò sorella Quale consiglio Può dare A questi genitori Che vivono Queste situazioni Che devono Lasciare I propri bambini Con altre persone E poi La mia domanda È Questi bambini Che sono nati Per promessa Del signore Sono più sposti All'attacco Del diavolo Poi Per quanto riguarda I cartoni animati Vediamo Che c'è Molta violenza E poi Ci sono I bambini Che imitano I supereroi E pensano Che anche loro Hanno dei poteri E vogliono Buttarsi Da un edificio Pensando che Pure loro Hanno dei poteri E rispetto Ai tablet Ai telefonini La maggior parte Di bambini Hanno questi capricci E quando sono Da soli Allora Se ne approfittano E vogliono visitare Pagine Che non sono Piacevoli a Dio Il diavolo Danneggia così L'anima degli Adolescenti Dei bambini Sono consapevole Sorella Che l'argomento Dei bambini E degli adolescenti È difficile Ma penso Che i suoi consigli Saranno di grande Edificazione Per tutti i genitori Bene Sorella Mi ha fatto 50 domande La sorella E le riassumo In una sola Risposta La situazione È triste Perché la sorella Dice che i genitori Vanno a lavorare E i bambini Rimangono Con qualsiasi persona Vicini Familiari Il nonno Lo zio Bene È difficile La situazione Per questo Dobbiamo Consegnare I nostri figli Al Signore E quindi Chiedere al Signore Che sia lui A prendersi cura Dei nostri figli Perché Questa È la situazione Bisogna lavorare Perché Ormai Oggigiorno Entrambi i genitori Devono lavorare Mentre Nell'antichità C'era il lusso Che la donna Poteva rimanere A casa Con i propri figli Curandoli Prendendosi cura Di loro Mentre il papà Provvedeva Tutto il necessario Oggi Non è più così Perché il salario È molto basso E tutti Devono lavorare In casa Tutti Devono lavorare Perciò Si ha bisogno Di cosa Noi dobbiamo Sempre stare Nella mano di Dio Tanto l'adulto Come il bambino L'adulto Perché Dio Lo benedica Nel suo lavoro E gli provveda Tutto Gli apra porte Di lavoro Con i bambini Affinché Dio Li protegga E se Dio Ha dei piani Con quei bambini Dio li proteggerà Perché la parola Del Signore Non sarà mai Spezzata Anzi I genitori Devono Preoccuparsi Di educare I bambini E come Dicono I programmi Televisivi I video I film Ecco I genitori Sono coloro Che devono Fare attenzione Ai loro figli Quello che guardano I loro figli E se vedono Che Guardano dei film O programmi Televisivi Non adeguati Fate fare Altre attività Ai vostri figli Spegnete la tv E fategli fare Altre attività Quindi sono i genitori Che devono educare I propri figli Non solo le altre persone Perché il mondo Per fare denaro Invia programmi Pubblicità Ma i genitori Devono Prestare attenzione A quello che fanno I loro figli Mentre guardano Il computer Cosa stanno guardando Oppure programmare Il computer Affinché non entrino In altre pagine E questo Lo si può fare Quindi dipende Dai genitori Anche da loro Non devono essere Tanto permissivi Tanto tolleranti Tanto ingenui Ma Agire Intelligentemente Saggiamente E proteggere i loro figli Da tante cose Andiamo avanti Con un'altra domanda Sì fratello Buon pomeriggio Sorella Maria Luisa È promessa del Signore Che le avrei fatto Delle domande E volevo farle Due domande La prima Di tipo Personale E questa domanda Il Signore Nella sua profezia A tanti di noi Ci ha detto Che ci avrebbe appartato Da persone Che non sono Di suo gradimento O che Pertorbano La nostra vita Spirituale In tanti casi Noi Noi vediamo Come Dio Ci apparta Da queste persone Sarà che è così? Non sarà piuttosto Che il Signore Ci vuole dire Che Siamo noi Che dobbiamo Allontanarci Perché il Signore Non è che ci toglie Tutte le trappole No Il Signore Mi sta dicendo Di sforzarmi E di allontanarmi Io Da quello Che non mi conviene Di allontanarmi Da quello Che non serve Non è che il Signore Farà tutto il lavoro Per me E io qui Con le braccia Conserte No Non è così Siamo noi Che dobbiamo Sforzarci Quindi La profezia Non è Ti allontanerò Quello che non ti conviene Ma Allontanati tu Da quello che non ti conviene Da quello che non ti serve Tu vai avanti Fai la cosa retta Vivi la vita retta È così fratello Quello che succede È che a volte Ci sono delle Cattive interpretazioni Della profezia Però continui a raccontarci Fratello In ogni modo Come umano Mi occupo Per queste persone Anche Se sono di ostacolo Alla mia vita Spirituale E mi domando Cosa vuole fare Il Signore Con queste persone Che non ci convengono Avranno La salvezza Oppure Le lascerà Il Signore Nella concupiscenza Uno Si preoccupa Per queste persone Bene Quello che accade È che se Lei sta Con queste persone Che stanno commettendo Il peccato Lei non può Star con loro Applaudendo Lei si deve Allontanare E dare esempio Che lei non sta Facendo queste cose Noi Non è che Dobbiamo convivere Per forza Con il peccato O applaudire Il peccato Noi Ci allontaniamo Ma questo Non significa Che stiamo Rifiutando Le persone O Odiando le persone Anzi Al contrario Noi siamo Attenti Affinché Diamo Delle raccomandazioni Delle parole Di sollievo A queste persone Invitarle in chiesa Vieni in chiesa Conosci Dio Ma Se quelle persone Ci prendono in giro E Sì Ci prendono in giro Ci dicono Tante cose brutte Perché io vado in chiesa Perché io non condivido Con loro Quello che loro fanno Allora io sì Mi allontano Mi allontano Perché Voi Se non ricevete I miei consigli E poi mi prendete In giro Allora perché io Sto con voi Voi siete qui Seduti State bevendo In continuazione E sono qui con voi Ascoltando le vostre Volgarità Cose illecite No Io non posso stare In un gruppo Di persone così Dirò Va bene Vivi la tua vita A presto Quando poi Torni in te Allora condividiamo Parliamo Ci chiariamo Dialoghiamo Io credo Che Questo è quello Che Lei voleva dire Lei dice Che si preoccupa Ma io penso Che non si deve Preoccupare Piuttosto Testimoni A quelle persone Le inviti A cercare Dio Perché lei Ha trovato la via Le inviti Invece di preoccuparsi Perché se noi Ci preoccupiamo Non risolviamo I problemi A nessuno Ma parlando E insegnando E correggendosi È così Sì Sì Continui Con la sua domanda Grazie sorella La Seconda Domanda Di carattere storico Io Comprendo Nella mia ignoranza Che Il primo Che ha compreso La Bibbia È Martin Lutero E vorrei sapere Un po' Sulla Sua vita Questo è quello Che racconta La storia La storia Racconta Che esistette Martin Lutero Insieme ad altri Personaggi Cominciarono A leggere La Bibbia Martin Lutero Era un sacerdote Cattolico Viveva nel Vaticano Questo Dice la storia Io l'ho letta Stava nel Vaticano Cominciò a leggere La Bibbia E quando Lesse la Bibbia Imparò Riguardo Agli idoli Che non Bisognava Fare degli Idoli Statue Dipinti E dire E dire Che tutti Loro Erano Dio Questo Capì Martin Lutero Dalla Bibbia Allora Lui Si ritira Dalla Chiesa Cattolica E Tutti Gli altri Lo Accusarono Di essere Un Protestante Perché Perché Stava Protestando Contro La Chiesa Cattolica Ma Lui Seguì La propria Corrente Quindi Continuò A leggere La Bibbia E da lì Nacque Il Protestantesimo Da lì La gente Cominciò A leggere La Bibbia Perché Non so Se fu Martin Lutero A iniziare A pubblicare La Bibbia Perché nessuno In quell'epoca Poteva leggere La Bibbia Non avevano Accesso Solamente Nel Vaticano Si poteva Leggere La Bibbia Allora Quando la gente Inizia a leggere La Bibbia Si rende conto Di tante cose E perciò La gente Cominciò A formare Delle religioni Non diciamo Le sette Diciamo Delle Delle Differenti Correnti Religiose Potremmo dire così Denominazioni Religiose Chiamate Cristiane E da lì Provenne tutto E sicuramente Proveniamo Anche noi Da lì Proveniamo Anche noi Da lì Perché Nel secolo XIX Secondo La storia Nacque La chiesa Di Pentecoste E la chiesa Di Pentecoste È chiamata così Perché lo Spirito Santo Cominciò a manifestarsi Nelle persone E le persone Cominciarono a parlare In lingue Sebbene Quelle lingue Angelicali Esistevano Già Dalla chiesa Primitiva Con Gesù Cristo E gli Apostoli Quindi Quindi Lo Spirito Santo Dopo il secolo XIX Cominciò A manifestarsi Nuovamente Alla gente Perché la gente Comincia a leggere La Bibbia E la gente Vede che ci sono I doni spirituali Nella Bibbia E la gente Chiede al Signore I doni spirituali Parlare In lingue E da lì Cominciano A parlare In lingue E così Successivamente La gente Comincia a leggere Sempre di più La Bibbia Formarono Delle denominazioni Delle religioni Secondo alcuni versi Della Bibbia E così Si sono formate Tante religioni E tante Anche Denominazioni E noi Proveniamo Della chiesa Di Pentecoste Perché cerchiamo Lo Spirito Santo E mi ricordo Che Cercavamo Lo Spirito Santo E parlare In lingue Angelicali Mi ricordo Di questo Ma eravamo Pochi E i dirigenti Oltretutto Ci proibivano Di parlare In lingue Angelicali Ma noi Leggevamo Nella Bibbia Che esistevano I doni spirituali Allora io chiedevo Signore Dove sono i doni Cosa sta accadendo Se questa è una promessa Che tu hai fatto E che è una promessa Per sempre Allora la gente Cominciava a chiedere Al Signore E il Signore Concedeva E infatti Il Signore Gesù Cristo Diceva Chi bussa Io aprirò La porta Chi chiede Io gli darò Perciò La gente Cominciò A chiedere A chiedere E il Signore Cominciò a dare E noi stiamo chiedendo Oggigiorno Anche noi oggi Chiediamo Al Signore Che in ogni chiesa Ci siano Tanti profeti Tanti evangelisti Tanti apostoli Tanti pastori E tanti maestri O dottori E noi lo stiamo chiedendo Questo vero Perché fino ad oggi Il Signore Ci ha dato Il dono Della profezia I miracoli Le guarigioni Il discernimento Poi tanti insegnamenti Perché il Signore Ci insegna La dottrina E noi chiediamo Al Signore Che si compia Il verso Di Efesini Capitolo 4 Verso 11 E noi questo Lo chiediamo Al Signore Ecco Nell'antichità Ognuno Quando capiva Qualcosa Dalla Bibbia Chiedeva Al Signore E il Signore Glielo concedeva Noi adesso Che siamo qui Abbiamo capito Tante cose Stiamo chiedendo Al Signore Tante cose Perché Stiamo andando avanti Chiediamo al Signore Che si manifesti Nella sua pienezza Nella nostra congregazione Ma il Signore Ci dice Sì Io ti darò Ma dove sono I cuori preparati Per ricevere Tutto quello Che io darò Dove sono I cuori disposti Cuori perfetti Purificati Cuori purificati Perché In un Salmo Dice Signore Chi starà Nel tuo luogo santo Chi abiterà Nel tuo santo luogo Chi Salirà sul monte Di Sion Monte della santità Chi L'innocente Di mani E il puro Di cuore Allora Questo è quello Che il Signore Ci dice Certo Darò profeti Maestri Apostoli Ma Ho bisogno Che abbiate Mani innocenti E cuore Puro Un cuore Puro Voi sapete Com'è un cuore puro Se c'è invidia Nel cuore Sarà puro No Se c'è un cuore Pieno di rancore Sarà puro O di orgoglio O di vanità Superbia Altezzosità Sarà puro Quel cuore Allora In conclusione Il Signore Se ancora Non ci ha dato Quello che stiamo Aspettando È perché ci manca qualcosa Ma noi siamo qui Lottando per ottenere Le benedizioni Di Dio Bene Grazie 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 a Martì Martì Lutero Che si è preoccupato Di leggere La Bibbia Bene Andiamo avanti Con un'altra domanda Sì sorella Buonasera Buonasera sorella Le diamo la benvenuta Lei a tutta la sua comitiva La mia domanda si trova in Giuda Verso 9 Giuda Capitolo 1 L'Apostolo Giuda Capitolo 1 Sì Verso 9 Invece L'Arcangelo Michele Quando in contesa Col diavolo Disputava intorno Al corpo di Mosè Sorella Maria Luisa Il Signore In profezia Mi ha detto Sì coraggiosa Sì forte Il maligno Ti invidia È infuriato Mi chiede la tua vita Ho lottato col nemico Per la tua vita Quindi sorella Come posso capire queste parole del Signore È vero che ho vissuto Momenti molto difficili nella mia vita Sorella Però Cos'ha a che vedere il verso che ha letto? Sì perché qui Dice che L'Arcangelo Dice che l'Arcangelo Michele Stava lottando contro il diavolo Intorno a Mosè Ma l'Arcangelo non fu Capace di giudicare il diavolo Come invece lo fece Eliphas contro Giobbe Eliphas giudicò Giobbe Mentre l'Arcangelo Michele Non giudicò il diavolo Perché non ne fu capace Anzi disse Il giudizio appartiene a Dio Quindi che sia Dio A riprenderti A castigarti Ma paragonato a cosa sorella? Sì sorella Io volevo dire Mosè Mosè era così perfetto Mansueto E lei sorella In uno studio biblico Ha detto Che stava lottando Per la sua anima Non per il suo corpo Come dice questo verso Ma il Signore In profezia Mi disse Sì forte Sì coraggiosa Lotta Il nemico Mi chiede la tua vita E io continuo a lottare Ma sorella Mi spieghi Quale altra lotta? Bene Io credo che oggi Il diavolo Sta Lottando col Signore A motivo nostro Il diavolo lotta Il diavolo Vuole che noi Apparteniamo a lui E non al Signore E chissà Quante cose fa il diavolo Ad alcuni Li fa cadere Nella trappola Ad altri Pone davanti Tentazioni E così La gente Non va avanti Non ha fiducia Non leggono più la Bibbia Si lasciano vincere Dal diavolo Mentre altri Come noi Siamo qui Saldi Saldi Succeda Quello che succeda Noi siamo Siamo qui Saldi nel Signore Come dei buoni soldati Del Signore Gesù Cristo Bisogna essere saldi Semplicemente Credere In Dio Cercare Dio Amare Dio Andare avanti E così Sorella Maria Luisa Buon pomeriggio Nel nome dei fratelli Le diamo Un cordiale benvenuto La mia domanda È la seguente In che modo Nostro Dio Ha messo in relazione Il Signore Gesù Cristo Con il sacerdote Melchisedec Quando lui Rispondeva ai farisei Dicendo Non sapete Che io Sono stato creato Come sacerdote Secondo l'ordine Di Melchisedec Perché Secondo l'ordine Di Melchisedec Perché Gesù Cristo Era incarnato In lui Secondo l'opera Che aveva Preparato Per l'Evangelo Melchisedec Fu colui Che apparì Ad Abramo Nell'antichità Dice che Abramo Stava ritornando Da una battaglia E Abramo Trionfò Contro quel popolo Contro quella città Perché vinse la battaglia E quando stava ritornando Abramo Incontrò Il sacerdote Melchisedec Che era Re di Salem E Abramo Penso che Dio Rivelò ad Abramo Che Era Re di Salem E che era un personaggio Molto importante Così importante Che Abramo Fece un sacrificio A quel sacerdote Melchisedec Dandogli La decima Di tutto il bottino Che aveva guadagnato Durante la guerra E quindi In ebrei Si dice Che quel Melchisedec Non aveva Genealogia Non aveva Né padre Né madre Quindi Melchisedec Era lo stesso Dio E infatti In ebrei Dice Che Melchisedec Era lo stesso Signore Gesù Cristo Che apparve Ad Abramo E Abramo Diede la decima A Re Salem Ah Quindi A sacerdote Di Melchisedec E in ebrei Si dice Che la parte umana Del Signore Gesù Cristo Era sacerdote Secondo l'ordine Di Melchisedec Quindi Il Signore Gesù Cristo Ebbe la sua parte umana Mentre la parte divina Era Dio E la parte divina Fu anche Sacerdote Di Melchisedec Che apparve Ad Abramo E in ebrei Parla Della parte umana Del Signore Gesù Cristo Che è Sacerdote Secondo l'ordine Di Melchisedec Ma era Dio stesso Quindi Da lì Viene questo Gran mistero Bene Cantiamo Il Signore Un coro Cantiamo Il Signore Un coro Come sorella Ah Sì Sì sorella Che cantiamo Il coro numero 168 Cantiamo Il Signore Il Signore Di Melchisedecco Di Melchisedecco Di Melchisedecco Di Melchisedecco Di Melchisedecco Dicendo Dicendo a mi La gente Adonde Está Tu Dios Está Sedienta Mi Alma Del Agua Brisa Grina De la Bondad Divina Mi Alma Tiene Ser Tal Tal Cual Encierro Brahma Por Límpidas Corrientes Mi Corazón Ardiente Por Ti Suspirò Dios Está Sedienta Mi Alma Del Agua Cristalina De La Bondad Divina Mi Alma Tiene Ser Mi Pante Día Y Noche Son Lágrimas Tandentes Diciendo A mi La Gente Adonde Está Tu Dios Está Sedienta Mi Alma Del Agua Cristalina De La Bondad Divina Mi Alma Tiene Ser Se Abate Mucho Mi Alma Llama Con Vemencia O Dios De Mi Clemencia Escucha Mi Oración Está Sedienta Mi Alma Del Alma Cristalina De La Bondad Divina Mi Alma Tiene Ser Benedetto Padre Celeste Ti Ringraziamo Signore Per Quest' Opportunità Di Essere Qui Questa Sera Davanti Alla Tua Presenza Signore Siamo Qui Nuovamente Meditando Nella Bibbia Mio Signore Stiamo Parlando Di Te Signore Ricordando Analizzando Tutto Quello Che È Successo Tutte Quelle Esperienze Tutti Quegli Iscritti Che Già Dall'antichità Esistono E Che Il Diavolo Ha Cercato Di Distruggere Ma Tu Mio Signore Con La Tua Presenza E Con La Potenza Del Tuo Santo Spirito Che È Venuto Nella Nostra Vita Nei Nostri Cuori Nel Nostro Essere Tu Signore Ci Insegni Tu Signore Ci Insegnato Ci Insegnerai Insegnerai Questa Via E Tu Non Permetterai Signore Che L'essere Umano Si Possa Nascondere Dalla Tua Presenza Tu Non Permetterai Che La Tua Parola Sparisca Perché Tu Sei Il Nostro Dio Il Padrone Dell'intero Universo Il Padrone Della Creazione Tu Sei Il Proprietario Signore Di Tutti Noi E Ti Chiediamo Signore Di Poter Comprendere E Capire Signore La Tua Dottrina La Tua Via E Che Tu Ci Possa Liberare E Purificare Distruggi Le Catene Tutti I Lacci Con I Quali Il Nemico Ha Voluto Legare Migliaia Migliaia Di Persone Ponendoli Tanti Spiriti Malvagi Che Non Gli Permettono Di Ragionare Di Coordinare Le Idee Né Di Prendere Delle Decisioni Ti Chiedo Padre Nel Nome Di Tuo Figlio De Giussu Cristo Di Nazare Di Stendere La Tua Mano Poderosa E Che Tu Liberi Signore E Che Tu Spezzi Lacci Catene Togli Signore E Distruggi Le Maledizioni Del Nemico E Che A Tutti Gli Esseri A Tutti Coloro Che Questa Sera Sono Davanti A Te E Inoltre A Tutti Quelli Che Ci Vedranno Attraverso Il Video Che Sono Legati Da Diverse Malattie Fisiche Psicologiche Spirituali E Che Tu Signore Li Liberi E Li Purifichi Purifica La Mentalità Di Ciascuno Togli Signore Tutto Ciò Che Possa Ottenebrare Una Mente Affinché Una Persona Possa Pensare Ragionare Prendere Le Proprie Decisioni E Capire Avere La Capacità Di Comprendere La Via Che Sta Percorrendo Affinché Le Persone Si Pentano Vano Avanti Che Possano Trasformarsi E Godere Della Tua Presenza Godere Della Preghiera Delle Lodi Che Si Fanno Per Glorificare Il Tuo Nome Padre Celeste Ti chiedo Nel nome Di Gesù Cristo Tuo Figlio Di Nazareth Stendi La Tua Mano Scaccia Tutti Gli Spiriti Immondi Scaccia Tutti Gli Spiriti Diabolici Distruttivi Dalla Vita Di Ogni Essere Che Sia Tu Signore Liberare Purifica Ogni Vita Purifica Ogni Cuore Ogni Anima Ogni Corpo Ogni Coscienza Libera Signore Libera Signore Riprendi Signore Gli Spiriti Immondi Riprendi Gli Spiriti Malvagi Distruggi L'opera Del Maligno L'invidia Del Maligno Che Vuole Distruggere La Vita Spirituale Degli Eseri Signore Siamo Qui Davanti Alla Tua Presenza Signore Chiedendoti Misericordia Acclamando La Tua Pietà Il Tuo Amore Le Tue Promesse Ricordati Delle Tue Promesse Ricordati Signore Delle Tue Promesse Ricordati Signore Di Quello Che Ci Hai Promesso Quando Tu Mio Signore Hai Promesso Libertà Libertà Per tutti Noi Per i Nostri Figli La Nostra Famiglia Per tutti Coloro Che Stanno Attaccati Dal Diavolo Signore Guarda Tutti Coloro Che Sono Posseduti Da Spiriti Immondi Signore Loro Non Riescono A Lavorare Non Riescono A Convivere Con Gli Altri A Partecipare Con Gli Altri Non Possono Stare Nella Società O Condividere Con Gli Altri Perché Sono Signore Perturbati Da Spiriti Immondi Che Non Li Lasciano In Pace Non Li Lasciano Ragionare Non Riescono Ad Essere Analitici Logici Perché Sono Perturbati Dal Diavolo Che Distorce I Loro Pensieri Il Loro Modo Di Pensare Di Parlare Di Comportarsi Padre Stendi La Tua Mano E Libera Padre Libera Padre Libera Padre Libera Signore Prigionieri Del Diavolo Riprendi I Demoni Riprendi Spiriti Immondi Scaccia I Demoni Scacciali Signore Scaccia Gli spiriti Immondi Fuori Tutto Il Potere Del Diavolo Fuori Tutte Le Malattie Fuori Signore Libera Signore Libera Signore Dall'altrite Dal Cancro Da Tutto Il Male Scaccia Ogni Demone Che Attacca La Pelle Le Ossa I Dolori Ti Chiedo Mio Signore Che Tu Possa Guarire Liberare Purificare Signore Abbi Misericordia Abbi Misericordia Padre Santo Nel Nome Di Tuo Figlio Gesù Di Nazare Ti Chiedo Tutto Questo Benedetto Il Signore Benedetto Dio Che Vive Che Regni Eternamente Per Sempre Tu Sei Grande La Tua Parola Verace Le Tue Promesse Sono Fedeli Padre Santo Aiutaci Aiuta Signore Questo Popolo Togli Le Debolezze Togli L'odio I Pettegolezzi La Critica La Mormorazione Guarda Signore Che Ci Sono Tanti Spiriti Immondi Che Lavorano Riprendili Padre Riprendili Padre Santo Libere Bambini Liberaci Signore Liberaci Dal Male Perseverate Tutti Perseverate Tutti Riceverete Così Le Benedizioni Perseverando Andate Avanti Perseverate E Riceverete La Liberazione La Potenza Dall'alto Gloria Re Gloria Dio Per Sempre Poderoso Sei Re Poderoso Sei Signore Grazie Signore Grazie Signore Grazie Signore Poderoso Sei Signore Liberaci Padre Aiutaci Signore A capire E a comprendere La Tua Volontà Aiutaci Eterno Dio Benedizioni Alleluia Liberazioni Guarigioni Guarigioni Grandi Guarigioni Sto Compiendo Liberazioni Vi togliete Vi toglierò I tormenti Le invidie Le ire La morbosità Vi toglierò Il male Pregate di continuo Pregate di continuo Perché cambiamenti Libertà Stanno per arrivare Alleluia Poderoso Alleluia Grazie Alleluia Alleluia Spirca Tessio Levanta Una tienda Y coloca En ella El arca De Dios Alaba Y bendice Y danza Jehovà Que Dios Ha llegado Que Dios Ha llegado Muy cerca Grazie a tutti. Gloria al Signore, gloria al nostro Dio, grazie all'Onnipotente perché questa sera il Signore ha offerto o perlomeno ha promesso tante benedizioni perché il Signore ha detto che tanti si sono liberati, ha dato tante benedizioni. Inoltre, inoltre il Signore dice che bisogna perseverare, bisogna andare avanti, continuare perché Lui si manifesterà con tanti miracoli, con tante liberazioni. E ci saranno tante guarigioni. Inoltre, il Signore ha dato del Suo Santo Spirito a tanti e che bisogna andare avanti. Grazie, fratelli e sorelle. Andiamo avanti, amando il Signore e che l'onore e la gloria siano per Dio. Grazie al Signore. Grazie mille a tutti quanti. Che Dio vi benedica. Che il Signore vi benedica a tutti. Grazie.